benvenuti io sono andrei e in questa lezione vedremo le nozioni principali riguardanti la tavola da wingfoil la parte frontale della tavola e la prua quella parte della tavola che più adatta al movimento di avanzamento opposta alla prua c'è la poppa sotto la poppa nella parte della tavola che sta sott'acqua sono presenti due scanalature dove verrà inserito il foil la tavola viene divisa in due parti dalla linea di mezzeria una linea sull'asso longitudinale questa linea divide la tavola una parte destra e una parte sinistra le tavole sulla coperta la parte superiore della tavola è presente un pad antisdrucciolo di solito in gomma che ci dà la possibilità di non scivolare con i piedi quasi tutte le tavole hanno i fori per le strap le strappe sono delle cinghie dove inseriremo i piedi per avere più controllo sulla tavola le strap vengono fissate attraverso delle viti e possono essere regolati in larghezza esistono diversi tipi di tavole a seconda del loro uso ogni tavola varia in termini di lunghezza larghezza shape e volume il volume delle tavole si misura in litri una tavola con tanti litri sarà più stabile rispetto a una con pochi litri le tavole con pochi litri sono più manovriere quando stiamo già foilando però necessitano di più equilibrio quando bisogna partire sulla poppa le tavole presentano un leash plug un gancio dove verrà fissato il leash il leash non è altro che un cavo di sicurezza che ci serve per collegare il nostro corpo alla tavola così quando cadiamo la tavola non scappa via le tavole possono essere rigide o gonfiabili le tavole rigide sono più performanti in fase di pompaggio rispetto alle gonfiabili mentre le tavole gonfiabili sono più facilmente trasportabili in quanto si possono piegare una volta sgonfiate e sono più leggere rispetto alle rigide molte persone sulle tavole rigide posizionano una protezione sui lati per prevenire graffi durante il trasporto alcune tavole presentano una maniglia per facilitare il trasporto queste erano le nozioni principali per la tavola da wing ci vediamo nella prossima lezione grazie e arrivederci